Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay 8 Oggi siamo su Mars Horizon Un gioco che vi avevo già portato in live diversi mesi fa Gli Auroc Digital, gli sviluppatori, avevano visto la live Per quanto non parli in italiano insomma Però mi avevano ringraziato di aver portato questo gioco Che aveva al momento di quella beta soltanto tre compagnie spaziali Che cosa bisogna fare in questo gioco? Vi faccio vedere quanto ho appreso Già che in quella live avevo fatto un po' tutto raffazzonato Adesso spero di potervi dire qualcosina in più Di che cosa si tratta? Si tratta del ripercorrere tutta la storia spaziale Dai primi lanci degli anni 50 All'allunaggio, lancio di animali nello spazio a scopo di esperimento E fino a Marte Un gioco si chiama Mars Horizon Quindi dovremo arrivare fino a quel punto Comunque di che cosa si tratta? Si tratta del momento che vedete ho sbloccato la Terra e la Luna Siamo nel 58 e ho già fatto diciamo due missioni Perché vedete che qua ci sono le milestone delle diverse ere spaziali E praticamente è una sorta di corsa diciamo tra regolette pacifica Tra la ESA che io ho scelto La NASA La Japan La China E la Soviet Union Tra cinque diverse compagnie spaziali Alcune rivalità adesso prenderemo a vederlo E vedete che in questo caso io sono stato il primo nella corsa allo spazio A fare il primo lancio di test e il primo satellite artificiale Cioè ho ribaltato in sintesi la storia portando la ESA sul tetto del mondo Mentre qui come potete vedere Entro otto settimane la China manderà il primo satellite E entro nove settimane nove mesi scusate sono sempre mesi Riusciranno a andare in Nello spazio anche loro con un satellite anche la China Mentre il primo lancio di test diciamo che Si parla di Primo posto per noi secondo la NASA terzo Giappone E così via andremo poi a sbloccare le varie milestone Ci sono anche delle richieste Tutto questo è fatto in modo tale da ottenere le richieste Insomma perché noi dobbiamo lanciare i razzi più volte magari E non proseguire in questa scalata Per diversi motivi In questo caso facendo questo test di lancio Otterremo 100 consensi e 250 punti ricerca I punti ricerca servono a sviluppare questo Il pannello di ricerca che è diviso in tre sezioni Le missioni quindi andare a sbloccare proprio delle missioni Animal in Space e Lunar Orbit E gli edifici per costruire il nostro quartier generale E poi i veicoli ovviamente che sono tutti veicoli Che si dividono in booster Quindi la parte inferiore del razzo che dà la propulsione E la parte superiore ovviamente deve essere la parte inferiore Deve riuscire a sollevare a livello di peso la parte superiore E la parte superiore deve essere grande Tanto quanto almeno il carico In caso di missioni cargo Il carico che dobbiamo trasportare Poi si va avanti Si vanno a sbloccare i Titan Che iniziano ad essere delle cose grandi Come vedete Launchpad Required Medium Mentre qua in alto siamo tutti qua sullo small E di conseguenza ci servirà una piattaforma di lancio più grande Fino ad arrivare a le cose un po' più grosse Large Insomma di cose da sbloccare Visto così non è molto figo Ma in realtà possiamo andare a vedere Che hanno un tot di capacità E anche una distanza massima Che in questo caso su questo Ariane 5 Arriva ad altri pianeti al di fuori Insomma quindi è figo Hanno anche un tempo di costruzione molto elevato Ciò che è una cosa importante da tenere d'occhio E' la reliability Si chiama l'affidabilità del razzo Ora io dovrei cercare Ricercare qualcosina Dobbiamo andare verso Vabbè il gioco è tutto guidato all'inizio Quindi abbiamo le missioni Dobbiamo cercare uno del rocket test Pad spacecraft Assemblary facility O research lab E poi costruire il build mission control Quindi Mission control questo Quindi io adesso faccio il rocket test pad E ci metterà 3 mesi Saltiamo di turno in turno In 5 mesi Insomma Di un mese alla volta scusate Possiamo andare a fare Vedete questo è il nostro pannello Diciamo di Per consultare il nostro quartier generale Nel quartier generale Noi possiamo andare a costruire gli edifici Gli edifici si dividono poi per O tutti o divisi per categoria Gli edifici ci consentono di produrre soldi Allora il consenso ci porta più denaro Più fama Quindi più denaro al mese Mentre invece La Punto di ricerca Vengono portati Sia dalla Diciamo l'amicizia con altri Centri spaziali Sia da degli edifici In questo caso Comunque Abbiamo raggiunto il limite Delle costruzioni al momento Per quanto riguarda il quartier generale E vedete questo più Praticamente mostra che Ad esempio la piattaforma di lancio Se lo mettevo qua a fianco Dava Una percentuale negativa Al quartier generale All'edificio principale Quindi mi faceva probabilmente Come vedete qua in basso a destra Guadagnare meno punti scienza A turno Quindi l'ho messa di là Dove non c'erano punti negativi La diplomazia invece mostra Che siamo in ottimi rapporti con la NASA Nel momento in cui andiamo sul verde Aumentiamo comunque I vantaggi Mentre invece Andando su una rivalità Dovrebbe aumentarci un pochino Le entrate Credo Perché è il nostro governo Che poi spinge per Andare a A fare A immettere più soldi Possiamo pianificare una missione In questo caso Possiamo dirgli Che vogliamo Testare questo nuovo sistema Di guida Dei razzi Alla fine Non lo so Non so dire nemmeno io Perché Dovremmo Andare avanti Intanto Iniziare a produrre qualcosina Ok Seguendo Ok Alcuni Giornali stranieri Ne hanno richiesto Hanno Suscitato Diciamo Dilemmi Riguardo alla Sicurezza globale La Cina Ovviamente Ha richiesto Che la tua Agenzia Rilasci le specifiche Del payload Che abbiamo spedito in orbita Le condividiamo Non abbiamo nulla da nascondere Abbiamo guadagnato Reputazione con la Cina Che non eravamo messi benissimo Ma al tempo stesso La Cina ha guadagnato Punti scienza Un rocket test pad Ti permetterà Di Fare dei test rigidi Ok Aumentando Ok Abbiamo fatto la ricerca E Ora cerchiamo Ci serve un'altra ricerca Facciamo Quello che costa meno 5.000 3 mesi 3 mesi Facciamo una research lab In modo da Potenziare Qua non c'è nulla di male Andiamo a vedere Sulle relazioni Abbiamo E la Cina adesso È comunque passata A guadagnare Cioè siamo nel lato Diciamo destro Del diagramma Quindi molto bene E dobbiamo aspettare Per forza Perché adesso Stiamo ricercando Abbiamo fatto Il laboratorio di ricerca Attenzione Adesso la Cina In 6 mesi Lancerà Il prossimo Il primo Satellite artificiale Quindi Noi l'abbiamo fatto A gennaio Loro a marzo Dicono che lo lanceranno In 6 mesi È intrigante Questo gioco Però ve lo dico subito Per Gli appassionati Dello spazio Come me Per gli altri no Poche valle Rocket test pad Allora Tutto questo Va ad aumentare L'affidabilità Allora Beh rocket test pad L'ho già fatto No Rocket test pad Che cacchio serve Sblocca le missioni Di addestramento Vabbè E noi lo facciamo No Facciamo prima La research lab Vedete che Ruotandolo con ZX Andiamo a dare dei vantaggi A gli edifici Che abbiamo di fianco Però vedete Da un negativo Quindi io Lo darei qua Così abbiamo un doppio Ok Ok E poi facciamo Un rocket test pad Spendendo tutti i soldi Rocket test pad È giusto Ma non l'abbiamo già Adesso mi domando Veicola hangar Small launch pad No non l'abbiamo Ignoranza mia Quindi Rocket test pad Ci costa 100.000 Lo costruiamo Lo mettiamo qui Che ci porta Giovamento E andiamo avanti Dove ansettare la ricerca Giustamente Perché l'abbiamo trovata Facciamo il mission control In quanti mesi Quattro mesi Va bene Va bene Andiamo avanti Possiamo fare il next event Ma non ha senso Perché bisogna andare avanti Con calma Qua non succede niente Procediamo Ok Abbiamo scoperto Le fasce di radiazione Guadagniamo 200 Di scienza Perché abbiamo Un satellite in orbita Adesso Quindi è tutto legato Da questo Ok 200 scienza Non è male Andiamo a un mese prossimo Ok Abbiamo Completato Il laboratorio di ricerca Sblocca le missioni Di addestramento Science Qua riparte il tutorial Con la training option Con la opzione Di addestramento Ora Potremmo focalizzarci Su aspetti vitali Della crescita Costruire Un mission control Mission control Sblocca Uno slot Missione addizionale Perché all'inizio Possiamo ottenere Solo una missione alla volta Insomma Quello che è figo Di questo gioco È che quando ho lanciato Un razzo Voi vedete Ed è tutta una questione Poi di matematica Di percentuali Quando vedete Che il razzo parte Non esplode Ed è in orbita Esulterete Così come fanno Nella stazione Di comando Allora Build No Mission control Non Non l'abbiamo fatto No Mission control Ci stiamo lavorando Ancora Sì Quasi Abbiamo quasi fatto Ma va bene Allora Costruisce il mission control Lo facciamo Facciamo seguendo il tutorial In modo che Almeno Riusciamo a costruirla Eccolo qua 250.000 Ci costa una barca di soldi Però va bene Ci porta Giovamento a tutto Lo teniamo ben lontano Da questo edificio Che gli da Un po' di noia E va bene E la costruiamo Bene Posto Poi Ricerchiamo Dobbiamo ricercare Qualcos'altro Build mission control Fatto Complete request mission No Andiamo a ricercare Qualcosa DPU Astronaut training facility Backup Power generator È tutto utile Perché quando Saremo nello spazio Dovremmo Fare un minigioco Insomma E avere Un backup generator Ci potrebbe essere Utile Beh Potremmo già iniziare Ad addestrare Ci costerà una barca di soldi Però quello Direi di Di non Di non esagerare Sblocchiamo Animal in space Sì perché Andiamo per gradi Perché già andare Intorno alla luna Mi sembra un po' Eccessivo Il prospetto Del lancio Del primo uomo Nello spazio Sta dominando I giornali Molti hanno etichettato Come un Un'impresa impossibile E Voglio vincere la gara Del primo uomo Nello spazio E quindi guadagniamo Cento di supporto Andiamo avanti Non succede nulla Qua quindi andiamo avanti Siamo nel 58 Quindi La Cina ha completato Il satellite artificiale Hanno finalmente mandato Sono arrivati i quinti Ultimi in questa Corsa allo spazio E va bene Mission Control È ora Responsabile Della fase critica Di una missione Dopo il lancio Monitorando I comandi Alla spacecraft Abbiamo uno slot In più missione Lanciando un animale Nello spazio Provvediamo Un test cruciale Della vita Dei supporti vitali Insomma Senza rischiare La vita degli astronauti Come Qua Vabbè Questa è una morale Insomma Però non si può parlarne Con Un Training Option Hai sbloccato La mission control Bill Ok Richiede Opportunità Va bene Quindi Active Mission No No Qua abbiamo Delle cose In più Però Cosa dobbiamo fare Complita Request Mission Request Mission Allora Payload Luna Arbit Ok Ben Incercata Quella Cosa possiamo Cercare Dopo Come Missioni C'è Payload Eden Una capsula Per trasportare Animali Infatti Dobbiamo Far Quella Adesso Active Mission Vediamo Non lo so Completiamo Solar Wind Monitor Eventi Solari Questa Ha dei Ah è sfidante Questa missione Considera Ok Sì Perché No Facciamo un Orbital Radio Experimental Fuel Meno 25 Al Percentuale Di lancio No Voglio fare Un test Normalissimo Vediamo Se riusciamo Pianifichiamo La missione E andiamo A costruire Il razzo Che dovrebbe Essere Un razzettino Semplice Sì Molto Molto Semplice Perché me lo danno Loro Lo chiamiamo Indie Guidance Primo Testeremo A spese Nostre Guadagnando Credibilità Gli occhi del Mondo Qua vedete Che abbiamo Il 41% Di riuscirci 78 8000 Ci costa La costruzione Del veicolo E ci vorrà Un po' Di tempo Per Due mesi Per progettarlo Intanto Facciamo altro Così almeno Ok La tua agenzia Negli ultimi 12 mesi Abbiamo Sono saliti A livello Quindi aumenteremo Sì Infatti Le entrate Mensili Ma Molto bene Quindi Abbiamo Il razzo Che è pronto A lanciare Un razzo Piccolino Ovviamente Quindi Ora andiamo A pianificare Quando lanciarlo Possiamo anche Settare Un addestramento Possiamo Tentare Di migliorare Il punti scienza Che andiamo A guadagnare O guadagnare L'affidabilità Io voglio guadagnare L'affidabilità Dovete calcolare Anche questo Le date verdi Sono quelle Più favorevoli Ah Più andiamo In là Più c'è possibilità Di ottenere Vedete Più 6% Più 3% No Facciamo un Più 6 Calcolate una cosa Ha senso Utilizzare Gli stessi pezzi Senza andare A Ricercare E montare Altri pezzi Sì Perché Ogni pezzo Ogni volta che viene utilizzato Con successo Guadagna un livello Fino al massimo Di 5 livelli E questo è un aumento All'affidabilità Quindi servirà Al massimo Dell'affidabilità Nel momento in cui dovremo Per dire Atterrare sulla luna Un simposio globale Sta prendendo Piede E sta prendendo Insomma Si sta svolgendo Per Stabilire leggi Riguardo ai territori Spaziali E Per i satelliti Supporto il trattato 10 Con altre agenzie Si non facciamo i gradassi adesso Perché noi siamo buoni Stiamo facendo una sfida Siamo pronti Abbiamo il nostro centro di comando Siamo pronti per il lancio Abbiamo guadagnato Abbiamo guadagnato Un po' di affidabilità Abbiamo Siamo collegati Con Non so Parlo in francese Quindi non so Da dove parta La ISA Non so Se la stazione di lancio Lindi guidance One Nel marzo del 59 È pronto A partire Sì direi Accettabile Cut Cut 3 De On Lift off Speriamo che parta Ok Ok Sta andando tutto secondo i piani Ok Sì Sembra di essere andato Correttamente Vediamo adesso cosa è successo C'è stato qualche problemino Insomma Non è andato Sul blu Invece Ok Questo è super Quindi guadagneremo Il 25% in meno Di punti scienza Però è andato tutto bene Non stiamo mandando Un satellite in orbita Quindi qua è salito Questo razzo qui Di livello 2 Su 5 Non avendo mandato Un satellite Non abbiamo il minigioco Poi della gestione Congratulazioni Hai completato Tutti gli obiettivi Del tutorial Va bene Da qua in poi Si fa Di testa mia Ok Quindi abbiamo Le milestone Da fare Blicando sul pianeta Tra l'altro Sulla luna Ci sono anche Delle missioni Lunar orbit Però vedete che Mi da Le parti suggerite Che ho già Tra l'altro Quindi Mi sta venendo Una malsanissima idea Di Di cercare Di fare questa cosa E di andare Su Provo a farlo Al volo Così Vediamo un po' La ricerca Mission Luna orbita Ancora un mese Ancora un mese Dai Vediamo se riusciamo A farlo Tanto per fare Un orbita della luna Cioè Perché no Vediamo se si può fare Sì abbiamo Quello che serve Perché non possiamo Farlo Lunar orbit Ah ok Ancora un mesettino Allora Ok dai Passa un mese Tanto Accumuliamo soldi Va bene Allora Lunar orbit Lunar orbit Pioneer Dobbiamo cercare Anche questo Mannaggia Dobbiamo cercare Anche quello Sì Tanto poi le parti Dovremmo già averle Quindi Andiamo avanti Di due mesi Ok Vediamo se Siamo pronti Pioneer E no Altro che Quanto ci manca Build time Due mesi No La ricerca è un pelo Più lunga Però È di quello che Eh sì Eh sì Purtroppo sì Vabbè Facciamo la prova Già che siamo qui Ah Il Giappone ha fallito L'animal in space Stanno provando loro A mandare Stanno fallendo tutti Adesso Quindi dovremmo Essere noi A concentrarci Su quella Sull'animal in space Ma mi serve Ricercare L'Eden Io non mi macchierò Di un delitto Con gli animali Quindi L'Unione Sovietica Ha completato Quella Vabbè La del Del Satellite Ok Abbiamo fatto la Pioneer Noi puntiamo la Luna Parti suggerite Ma le abbiamo Le abbiamo Le abbiamo Quindi possiamo farla Ok Lunar orbit Ok Allora abbiamo Questo 190.000 E costruiamo Il payload Che è la sonda Insomma Quello che andrà Sulla Luna Quindi aspettiamo Aspettiamo No? Set research Dovemmo cercare altro Boh Cerchiamo questo Sto andando a caso È ma è giusto perché Allora abbiamo Un problema Durante la produzione Rimpiazziamo il componente Spendendo 100.000 Sono Ancora Va bene Tanto di soldi Dovremmo avere Ne abbiamo passato un sacco di mesi Senza fare nulla Ok Abbiamo costruito Il lunar orbit Che è il satellitino Qua la sonda Insomma 75% di reliability Ora disegniamo il veicolo Per mandarlo intorno alla luna Quindi vivremo Questa emozione insieme Upper stage Questo Allora il payload Pesa 35% Qua comunque Va bene Perché trasporterebbe Molto di più La seleziono Il booster Prendiamo il booster Uno bello Potente Insomma Vedete che uno Ha una reliability Più bassa Uno più alta Quindi Seleziono questo Posso salvare il design Insomma Lo chiamiamo Lindy Lunar Orbiter Perché Primo Perché Noi Non c'è più spazio Va bene Mark 1 76% di reliability 4 mesi 300.000 Dollari Di produzione Siamo pronti Ragazzi Andremo Sulla luna Adesso Edifici Vediamo Astronaut training Iniziamo a portarci avanti Perché poi A quel paese L'invio degli animali Quello Lo lasciamo I russi Noi ce ne andiamo Sulla luna Ah ma ci sta pensando Anche la cena In sei mesi Noi partiremo Prima Saremo pronti Prima Il mese prossimo È tutto pronto Ok Il razzo è pronto Siamo pronti L'ansia sale Questo sarà Un video lunghissimo Possiamo fare Il training Sull'affidabilità Continua Va bene Lunch date Non è giusto Partiremo No Ragazzi Ragazzi La luna Sulla La robita lunare Parte la Cina Noi dobbiamo Partire ad agosto Per forza Ad agosto Loro partono a novembre Rinvi Aos settembre Ottobre Non c'è una finestra Di lancio ideale Partiamo ad agosto Ragazzi Si andrà Sulla luna Il mese prossimo Andiamo La scoperta Di detriti Che sembrano Ad appartenere Un pallone Aerostatico Hanno Cospirazione UFO Insomma Ma no Niente speculazioni È un pallone Aerostatico Come si dice di solito Non ci sono alieni Lunar Orbit Lanciamo Sono emozionatissimo Vediamo Vediamo Che succede Diluvia Diluvia Ma il centro di comando Dice che si può partire Comunque Tempo 3000 metri E siamo oltre le nuvole Dai ragazzi Non molliamo adesso Dobbiamo andare Sulla luna Non so direvi il prezzo Di questo gioco Se la domanda è quella Perché esce nel giorno stesso In cui sto registrando Anche se ce l'ho già Da qualche giorno Ma si dai Qua è peggiorata Un po' la situation Però dai Partiamo La ESA Farà L'orbita lunare Andiamo dai Andiamo Andiamo ragazzi Andiamo Momenti di tensione Malarazzo Sembra andare tutto bene Sembra andare bene Insomma Ok Ok Siamo partiti Dai Ho passato lo rosso Siamo sul blu E' andato tutto bene E' andato tutto bene Dai nessun effetto Negativo Né positivo Il booster Fa livello 1 L'altro booster Pure Quindi nei lanci successivi Sarà più comodo Sarà più più alta Ok Lunar orbit E' andato E' andato C'è un'altra C'è un'altra Proviamo Proviamo Uno di energia E quindi in questo caso Perfetto Abbiamo rispettato I requisiti Ogni missione Ha un bonus Di obiettivo Se raggiungiamo Questa specifica qui Guadagniamo di più Ma non mi interessa Perché onestamente Adesso Abbiamo già quello Che ci viene richiesto E quindi Io me la tengo Completo il task In modo da Andare In direzione della luna Ok Siamo arrivati intorno alla luna Siamo sulla Mamma mia Che spettacolo Dobbiamo raccogliere adesso 3 di Mission Resources E data Ok Allora Dobbiamo avere 6 Sì Allora dobbiamo ottenere Abbiamo detto 3 e 4 Quindi Bisogna trovare il modo giusto Di ottenere le cose Quindi Se noi Accomunassimo Allora 2 e 2 Quindi possiamo fare 1 e 2 E spendiamo 4 Più Uno di questo E abbiamo 1 Quindi possiamo controbattere Soltanto un fallimento Ok Questo è andato Perfetto L'allineamento dell'antenna è andato E siamo a posto Abbiamo ottenuto 2 punti Ok Il secondo Ok È andato anche il secondo Fantastico Perfetto E mo Adesso dobbiamo ottenere 4 punti Di ricerca Di data Scusate Ok Per il roto della cuffia Ma neanche tanto Ce l'abbiamo fatta Però adesso Ci servono altri punti Altri Altri due punti E abbiamo 3 turni rimasti Quindi possiamo andare A spendere Un punto Di Questo Dato che ne abbiamo 4 Possiamo spenderlo Ottenendo un punto Anche di navigazione Che non ci serve Ma sarà una merce di scambio Per dopo Quindi questo Più anche 1 di energia E vediamo come va Ok Questa sta andando Veramente bene Questa missione qua Ok Accetta Ok Tutto secondo i piani Un piccolo guasto Un piccolo guasto A cui cercheremo Di resistere Perdendo 2 di energia Sì dai Resistiamo Così Riusciamo Ok Ce l'abbiamo fatta E Io direi Basta così Complete task Tanto Non ambirei A fare chissà che cosa Possiamo spendere questo Ma no Ma no dai Complete Complete così dai Ed qua c'è la risultanza Perché la missione È andata a buon fine Quindi siamo riusciti A raggiungere L'orbita lunare E abbiamo Fatto La terza milestone Al primo posto Dopo Tanto tempo Insomma Torniamo sulle vette del mondo Perfetto E qua Adesso Si prospetta Lo sbarco lunare Insomma Degli uomini Ragazzi È stato un video Presumo lunghissimo Questo era Mars Horizon Fatemi sapere Che cosa ne pensate E alla prossima Ciao ciao